Musica 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 La prossima settimana siamo giù a Cassino per la finale di Coppa Italia Poi c'è... come hai detto, з'io Vediamo solo E prendo un po' il ritmo perchè sono fermo dall'agosto Quindi scelta a lavorare E allora è un Asso, sicuramente, che ti era fatto vedere Musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.